Come te la passi pipistrello? Hai un bel posticino qui? Sarebbe piaciuto al mio Joker? È il tipo di posto che avrebbe scelto? Lo sai come ci si sente a svegliarsi giorno dopo giorno? E sapere che non vedrai mai più il suo bel pacino? Poiché lo sai, te lo dico io, è un tormento. Certo, ora... Io non mi avvicino. Beh, ora ho tre Joker nuovi di zecca e ognuno di loro è assolutamente perverto. Io damatti a tutti. Harley, che ha fatto? Adesso, è un ragazzino. Oggi se tiene? Di buonanotte. Ti farò a dare un palo. Eh, da, scappa pure. Non riuscirai a passare di qui. Robin, aspetta qui. Faremo prima se lo affrontiamo insieme. Quando tocca a me? Lo saprai quando lo vedrai. Vieni fuori, Batman! Cosa? Più forse spaventati? Mettimi alla prova. Ti sfido! Certo che ce n'hai messo di tempo. Provavo il tuo autocontrollo. Ce l'ho fatta? Devi fare pratica. So, signorina, dobbiamo andare in un posto sicuro. Stiamo scherzando? Io voglio un posto in prima fila! Se le succede qualcosa, Harley vi ucciderà. Sì, naturalmente. E non appena Batman vedrà come mi avete trattata, manderà al tappeto te e te. Beh, magari non te. Ma senz'altro te. E te... Beh, ora le cose sono più equilibrate. Comunque, quando vi avrà sistemati per bene, io e Batman avremo questo posticcino tutto per noi. Perciò andate laggiù e costringetelo a dimostrare quanto mi desidero. Ha 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 ha! L'avete sentita? Andiamo. Cribbio non doveva ucciderlo. Hai visto lo spaventapassere sui mega schermi? Voi idioti, ne avete per molto? La ragazza è al sicuro sotto chiave. Se collaboriamo sarà più facile eliminare il mitragliatore. Perciò non voglio correre rischi. Ricordate chi comanda qui. Quando vi do un ordine, dovete portare i tappi. Batman? Batman, sei tu? Questi ghiocchi vogliono separarci. Ho cercato di spiegare tutti i modi in cui farai loro del male, ma... credo che siano masochisti. Buon divertimento! Ehi ragazzi, solo perché il mio pipistrello vi ridurrà in una poltiglia pagamente sensiente, non vuol dire che non dobbiate sforzarmi un po'. Voglio che sia coperta di sangue quando mi salverà. Del vostro sangue. Sarà meraviglioso sulla tuta. Da che parte sta? Oh, ne ha già preso uno! E' troppo stupido per capirlo. Se continui così non ti scrittureranno una seconda volta. Ascolta, Batman, se posso gestire lo show, i primi binari, se ne sono diversi, i lenti, i paloni specializzati, fino a quattro paloni di quei anni. Lo sai questo per... E questo? Questa volta tu. E sì. Quello è Robin. Robin è qui! Ragazzi, uccidete subito quel vestitero moccioso di canazio. Robin... Robin! L'intente! Lasciaci in pace o ti prometto che ti tagliazzerò finché la vera meraviglia sarà a tenerti ancora lì. E' peggio di giochi. Almeno lui voleva che vincessi. Non ci sta facendo a pezzi. Non ci ha ancora battuto. Devo sia solo questione di fortuna. Possiamo banderlo, ok? Per me siamo tutt'altro che ok. Non possiamo fare niente. Andiamo. Batman non lo sa, ma ha tenuto il meglio per la fine. Care a nascondino non funzionerà con noi. State tutti bene? Passa la grande vuota! Mi ha preso un altro. Ragazzi, vi serve un nuovo caso che sia di più, che sia maniaco, che sia reticante, che sia portare alla possibilità di torturare le persone. Credo che io sia già compatto, ma... E qui? Ci sfuggerà! Si avviciniamo. Si avviciniamo. Si avviciniamo. Si avviciniamo. Ma la stoffa del sud. Devo portarmi in posizione sopraelevata per coprire Novin quando attacca. Si avviciniamo. Si avviciniamo. Si avviciniamo. E quando starei senti? Si avviciniamo. Si avviciniamo. Benvenuto al Salone. Granata! Eccolo! Questa volta ci sfuggerà! È andato di qua! Si avviciniamo. Si è andato lassù! Fuoco! C'è qui? Tu se fuggi là? C'è attacco di qua? 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 Non entretiens%, non entretiens. Ci si fuggi sulla cauce. Qua? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non posso sovraccaricare un'arma così grossa. Causerei un'esplosione letale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, cosa diavolo? Ti ammazzo, Batman! Appena sistemo l'arma, sei cipo. Andate là dentro e aiutate quegli idioti! Sentito, Harley? Trovate Batman e uccidetelo. Nessun problema. Hai sentito Batman? Stiamo venendo a prenderti! Non posso crederci. Non posso crederci. Come diavolo facciamo a eliminarlo? Sto ancora cercando di capirlo. Beh, allora sbrigati. Beh, allora sbrigati. Ormai è tardi per lui, ma troveremo chi l'ha ridotto in quello stato. Ho sentito. Ho sentito. Non posso crederci. Non posso crederci. Non posso crederci. Non posso crederci. Andiamo! Oh, bastardo! Ti prenderò, demente!